un cordiale saluto da orlando borini e benvenuti a pineta sport sabato 26 domenica 27 maggio a nero si sono svolti i campionati regionali di ciclismo per le categorie dei giovanissimi dai 6 ai 12 anni la manifestazione è stata organizzata dalla biciclabe 2000 di borgo manero già molto attiva sul territorio per promuovere questo sport con l'appoggio della federazione ciclistica italiana delle comune di borgo manero le gare si sono svolte in due giorni sabato con la gara di velocità sui 100 metri per la qualificazione e sui 150 metri per la finale per le categorie g4 g5 g6 e per la gincana per le categorie g1 g2 g3 vicino al campo sportivo di borgo manero le iscrizioni sono state molto alte 302 corridori come il pedale ossolano che portava 32 ragazzi grazie a tutti con le immagini stiamo seguendo il percorso che dovranno compiere questi ragazzini della categoria G1, G2, G3 che hanno un'età compresa tra i 6 e gli 8 anni un centinaio di metri da percorrere facendo lo slalom tra i dirilli con passaggi sotto l'asticella da qualche anno la federazione ciclistica italiana ha inventato questa nuova specialità per far sì che i ragazzini imparano a controllare e guidare la bicicletta in qualsiasi condizione mentre per la categoria G4, G5, G6 la gara sarà quella dello sprint 20 metri di lancio e poi 80 metri cronometrati questa è la distanza per la qualificazione mentre poi i migliori tempi rispetteranno la finale che sarà sui 150 metri G400 metri di lancio G400 metri di lancio G400 metri di lancio Ci siamo portati sulla rettilinea dove si stanno disputando le qualificazioni cronometrate per le categorie G4, G5 e G6, partenza da fermo con 20 metri di lancio e 80 metri cronometrati, i migliori tempi disputeranno le semifinali che non saranno più cronometrate ma tre concorrenti per sprint e il miglior tempo passerà alle finali che si disputeranno sempre a tre. I've been waiting, waiting all my life for this magic melody, and if you hear me now come out of space babe, come and sing with me, it goes la di da, it goes around the world around the la di da, and everybody sing it loud just la di da, a million miles away from home oh la di da di da, one more time it's la di da. La di da, it goes around the world around the la di da, and everybody sing it loud just la di da, a million miles away from home oh la di da di da. All the powerofus.ca! All the love of the gold and it starts! All the love of the happy beats! I've been waiting for seven years after the song hello Grazie. Prima fase di paura, di timore, ora è giù, rimbrancata, vai Rosaventa, vai Trattuglia. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Bene, questo è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Questa è il passaggio, un applauso per Elisabetta. Dai! 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 Adio! Dai! 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 E' un'altra parte di un pato, un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Grazie 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 a tutti! 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 Grazie a tutti!